Ben ritrovati cari amici, è arrivato il momento di fare l'anno di prima della puntata odierna di WWE Friday Night Smackdown, puntata che apre il draft 2020 nella notte. O chi guarderà domani la puntata scopriremo i primi passaggi da Raw a Smackdown e poi il draft si concluderà lunedì, ma vediamo cosa c'è in Serbo per la puntata di questo venerdì. Avremo innanzitutto una sfida per il titolo femminile di Smackdown tra Bayley e Sasha Banks, poi primo combattimento a Smackdown di The Fiend Bray Wyatt che affronterà Kevin Owens, quindi è un brand-to-brand match. Poi abbiamo il false count anywhere match tra Big E e Shimus ed infine Odis che ne sapremo di più per quanto riguarda la sua situazione e il suo contrasto del money in the bank. Quindi c'è molta canna al fuoco come di consueto come ogni venerdì, noi ci vediamo presumo più tardi, sicuramente penso arriverà il video per commentare un po' l'Italia del 21 e poi non so se esce qualcosa altro. Bene, quindi buon Smackdown a tutti, noi ci vediamo per nuovi video, ciao a tutti, alla prossima, buon proseguimento di giornata, ciao!